Un appuntamento importante al MUMEC di Arezzo con l'undicesima giornata mondiale della radio, la comunicazione fra cielo e terra, questo è il titolo, un evento in presenza. Siamo molto felici di essere tornati in presenza, la scorsa giornata mondiale della radio si sviluppò completamente online, ma quest'anno il museo ha deciso proprio con questo evento di riaprire le celebrazioni in presenza per il 2022. Un evento organizzato con i centri per l'UNESCO di Arezzo, Firenze e Torino, RAI Toscana e la sede del museo e della televisione RAI di Torino. È stato ricreato il primo collegamento che vide appunto protagonista Marconi e riprende esattamente il titolo dell'incontro di quest'oggi, tra cielo e terra. L'evento riesce a ripercorrere una strada che diversamente non si poteva più ottenere, quello che oggi ci permette di comunicare sia in volo che a terra. In volo perché è la prima volta che si realizza questo incontro con un apparecchio e l'apparecchio ci permette di viaggiare, spostarci, ma in questo caso Marconi è riuscito a far sì che fosse anche un mezzo di comunicazione verso terra. Con questo sistema un aereo da ricognizione poteva perciò sorvolare le linee nemiche nella Prima Guerra Mondiale ovviamente e di conseguenza a terra poteva mandare quei segnali indispensabili perché le truppe si potevano muovere e potevano ottenere chiaramente dei risultati. A differenza di non essere in comunicazione non si poteva sapere assolutamente niente.